La guerra e la desolazione precederanno la seconda venuta. Nella grande rivelazione sulla guerra il Signore dice che alla ribellione della Carolina del Sud sarebbero seguite grandi distruzioni dalle quali la terra avrebbe continuato ad essere colpita finché i decreti di Dio non si fossero interamente compiuti e tutte le nazioni non fossero state completamente annientate. Io aspetto con grande ansia che tutto questo si adempia, che Cristo venga a regnare e che il suo regno si stabilisca in terra come in cielo, come Egli ce l'ha insegnato a pregare. Padre che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Io prego perché venga a quel tempo. Io supplico i Santi degli ultimi giorni ad essere fedeli nell'espletamento di ogni loro dovere, osservando i comandamenti del Signore, onorando il sacerdozio, affinché quando verrà il Signore noi possiamo essere degni, non importa se vivi o morti, di partecipare a questa gloria. Ricordate che quando verrà quel tempo, questa terra sarà purificata dall'ingiustizia e i malvaggi saranno bruciati come stoppie. Il Signore distrusse i malvaggi nel diluvio di Noè. Dio disse a Noè, «La fine di tutte le carni è giunta dinanzi a me, poiché la terra è riempita di violenza, ed ecco, io distruggerò ogni carne din sulla terra». Si dovrebbe tenere presente che il Signore disse che egli lo avrebbe fatto. Così, il Signore comandò a Noè di costruire un'arca su cui doveva portare la sua famiglia e tutti gli annari della terra per la continuazione della specie. Nel diluvio tutta la carne che non era nell'arca perì, secondo il decreto del Signore. Naturalmente, quelli che fra i figli dei uomini sono saggi e grandi non credono a questa storia, così come avvenne per la storia di Noè e i suoi giorni. Il Signore uccise gli abitanti di Sodoma e Gomorra. Quindi, dopo questo nuovo inizio, i uomini ritornarono ad essere carnali, sensuali e diabolici, talché drastici castigli dovettero essere nuovamente inflitti ad alcuni abitanti della terra, secondo il decreto del Signore. Al tempo d'Abramo c'erano due città, conosciute come Sodoma e Gomorra, in cui la malvagità non aveva limiti, Per tale ragione, il Signore disse ad Abramo che quelle città egli le avrebbe distrutte. Abramo supplicò il Signore di risparmiarle, e il Signore glielo promise a patto che in esse si fossero trovate dieci anime rette. Poiché non si poterono trovare, l'Eterno fece piovere dai cieli, su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco. Da parte dell'Eterno, e queste, con tutti i loro abitanti, furono distrutte. Ed ancora una volta il Signore disse che egli lo avrebbe fatto. Ma i pochi e i saggi del nostro tempo dicono che questa non è una storia vera, perché un Dio misericordioso non farebbe una cosa come questa, neppure se il popolo fosse malvagio. Il Signore comandò a Israele di distruggere gli amorei. All'incirca intorno a questo periodo il Signore promise ad Abramo di dargli quale eredità eterna tutta la terra dove erano Sodoma e Gomorra e tutto il paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Frate. Ma gli fu detto che 400 anni la sua progene non poteva possedere il paese perché l'inuità degli amorei non è giunta fino al colmo. Quando venne il momento e la malvagità degli amorei giunsero al colmo, il Signore comandò a Israele di radunare i suoi eserciti, di purificare il paese dalla malvagità e di prendere possesso della verità promessa al loro padre Abramo. Israele e Giuda maledette per la loro iniquità. E così, attraverso le varie età, se stiamo pronti a credere quello che contengono le scritture, scopriamo che i malvagi sarebbero stati colpiti dai giudizi e dalle distruzioni perché non volevano ravvedersi. Anche il Regno Israele di Giuda furono distrutti e il popolo disperso perché la collera del Signore si accese contro di loro per le trasgressioni commesse. Così è se siamo disposti a credere alla parola dell'Eterna trasmessaci attraverso i suoi profeti. I Giarediti distrutti per aver respinto il Cristo Non soltanto agli abitanti del cosiddetto vecchio mondo furono infritti questi castigli, ma per lo stesso motivo la distruzione aspettava anche gli abitanti di questo mondo occidentale. I loro profeti ricordavano continuamente ad essi che questo paese è una terra scelta fra tutte le altre e che il Signore Dio aveva preservato per un popolo giusto. Ed egli, l'Eterno, nella sua ira, aveva giurato al fratello di Giared che chiunque a partire da allora e per sempre avesse posseduto questa terra promessa avrebbe dovuto servirlo. Lui, il sole, è vero Dio o sarebbero stati spazzati via quando la pienezza della sua ira fosse caduta su di essi. Quando questo popolo si rifiutò di adorare il vero Dio vivente allora la sua collera si abbattè su di esso se vogliamo anche vedere la storia e lo spazzò via. Il Signore distrusse i nefiti e i lamaniti per la loro iniquità. Quindi un altro popolo subentrò nel possesso del paese sotto tutte le benedizioni di protezione e di guida dell'Eterno. Queste stesse promesse ed esortazioni furono fatte al secondo gruppo di abitanti e i profeti che furono suscitati in mezzo ad essi li avvertivano continuamente delle promesse fatte dal Signore. Ma anche questo popolo cadde in disgrazie e l'ira dell'Onipotente si abbattè su di esso. All'epoca della crocifissione del nostro Signore esso era divenuto così malvagio che fu necessario per l'Eterno distruggere molte delle sue città tramite antiterremoti, diluvi, incendi e altre forme di distruzione. Sì, è vero lo stesso Nazareno umile e mansueto che venne nel mondo per offrirsi in sacrificio per i peccati dell'umanità che il Padre suo ed egli stesso amavano grandemente. Colui che è infinito ed eterno Dio immutabile d'eternità in eternità che ama i fanciulli e che permette che essi vadano a Lui si trovò nella necessità di castigare in maniera drastica gli abitanti di questo paese eletto. Ascoltate le parole che egli disse dopo la sua risurrezione. Guai, guai a questo popolo, guai agli abitanti di tutta la terra a meno che non si pentano poiché il diavolo ride e i suoi angeli gioiscono nell'uccisione dei bei figli e delle belle figli ove del mio popolo sono scavuti per causa della loro iniquità e delle loro abominazioni. Ecco, quella grande città di Zaraemla io l'ho bruciata con i suoi abitanti ed ecco, quella grande città di Moroni l'ho fatta sprofondare nella profondità del mare e i suoi abitanti sono annegati e quella grande città di Moronia l'ho ricoperta di terra con tutti i suoi abitanti per nascondere la loro iniquità e le abominazioni del mio cospetto dal mio cospetto affinché il sangue dei profeti e dei santi non gridi più a me contro di essi il Signore annientò anche la città di Gilgal, Onia, Mocum, Gerusalemme Gadiandi, Gadiomna, Giacobbe, Jimginno Giacobbe, Bugat, Laman, Josh, Gad, Giscumen e altre ancora la distruzione attende i malvaggi nel nostro tempo ma, dice il fariseo modernista queste cose non potevano essere perché Dio è un Dio d'amore è il Salvatore un uomo di pace e il Dio che io adoro non ordina alla morte di colpire gli agricoltori i dipendenti delle fabbriche e le donne e i bambini nonostante il peccate noi che viviamo nel tempo presente dovremmo fare attenzione e trarre profitto dalle esperienze di coloro che sono già morti sì, da non cadere nei stessi gravi errori dovremmo ricordare che i medesimi ammovimenti sono stati fatti a noi e a tutti i abitanti della terra e che la distruzione aspetta questa età a meno che i uomini non si astengono dall'essere malvaggi e abominevoli non dimentichiamo che il Signore ha detto che come fu ai giorni Noè così sarà nel nostro tempo dovremmo ricordare anche che Egli è ancora un Dio di collera così come è un Dio d'amore e che ha promesso di accendere la sua collare contro i empi e di vendicarsi dei malvaggi che non si pentiranno gli antichi profeti non furono i soli a predire che ciò sarebbe avvenuto negli ultimi giorni ma anche il Signore lo ha detto nella nostra stessa dispensazione i malvaggi uccideranno i malvaggi finché non verrà il Signore il Signore dice che Egli ha decretato che vi siano guerre perché? perché nel cuore degli uomini c'è l'odio perché nel cuore degli uomini c'è la malvagità perché essi non vogliono pentirsi ecco un altro passo e accadrà per la malvagità del mondo che io prenderò la mia vendetta sui malvaggi poiché non vogliono pentirsi la coppa della mia indignazione di fatti è colma ecco infatti il mio sangue non li purificherà se no mi danno ascolto questi sono gli ammovimenti che il Signore fece al suo profeta e che questi comunicò al popolo di questa nazione e degli altri paesi il Signore dice che i malvaggi non si pentiranno e poiché non si pentiranno egli ha decretato che vi siano le guerre e che i malvaggi uccidano i malvaggi e così la terra sarà purificata come si legge nel capitolo 24 di Isaia finché rimarranno soltanto pochi uomini io sono io so che quello che sto dicendo non è gradito ad alcune persone e che sarò criticato per questo ma non me ne importa è la parola del Signore e io voglio munire i santi degli ultimi giorni ora leggerò un altro passo della scrittura ecco infatti guardate la vendetta viene rapidamente sugli empi come un tifone e chi potrà sfuggirvi? il flagelo del Signore passerà notte e giorno e il rapporto di questo opprimerà tutti i popoli sì non sarà arrestato fino a che venga il Signore niente pace sulla terra fino alla venuta di Cristo un momento fa da un'altra rivelazione ho letto che il Signore ha detto che verrà il tempo in cui la pace sarà tolta dalla terra io vi dichiaro che essa è già stata tolta ora io dico no lo dice il Signore esso non ritornerà finché non verrà il Signore che essi reclamino pure la pace che la cerchino non la troveranno finché Cristo che è il principe della pace non verrà ad occupare il suo legittimo posto come il re del re dominando e regnando sulla terra da ora fino alla venuta di Cristo non vi sarà pace né in questo né in nessun altro paese ma vi saranno piaghe tribolazioni e sofferenze l'unico scampo è il pentimento da parte delle persone ma esse non si rabbederanno sfuggiranno i santi ai pericoli degli ultimi giorni cosa ne sarà dei santi degli ultimi giorni in uno dei paesi e in uno dei passi che ho letto sta scritto che i santi fuggiranno appena bene io non credo che essi stanno per sfuggirvi vi dirò il perché poiché l'inignazione del Signore è infiammata contro le abominazioni e tutte le loro opere malvagie cioè i popoli della terra ciò non di meno Fiam sfuggirà se essa osserverà tutte le cose che io le ho comandato ma se essa non osserva tutto ciò che le ho comandato io la visiterò secondo le sue opere con dolose affezioni con la peste con le piaghe con la spada con la vendetta e con il fuoco di volante ciò non di meno che sia letto questa volta nelle sue orecchie che io il Signore ho accettato la sua offerta e se essa non peccherà più nessuna di queste cose verrà su di essa questo fu detto più di 120 anni fa cioè nel 1833 il Signore promise ai Santi degli ultimi giorni che se avessero osservato i comandamenti sarebbero scampati alle distruzioni che sarebbero sopravvenute come un turbine di vento per sfuggire alle piaghe i Santi devono pentirsi noi non stiamo osservando i suoi comandamenti alcuni Santi degli ultimi giorni ce la mettono tutta ma alstrettanto non fanno molti di loro noi siamo violatori di patti violiamo il giorno di riposo non lo santifichiamo noi non manteniamo puliti i nostri corpi e forse non preghiamo intendo dire una grande parte di noi se poi parliamo del digiuno lo abbiamo dimenticato non abbiamo neppure la metà di quella bontà che pensiamo di avere abbiamo bisogno del pentimento e c'è bisogno che ci venga detto di pentirci è necessario che la nostra attenzione si richiama su questa condizione affinché ci si possa pentire e volgere il Signore con pieno intento di cuore per tema che queste distruzioni si abbattano su di noi noi non paghiamo la decima nella misura giusta alcuni di noi fanno delle donazioni che chiamano decima infine ci sono quelli tra noi che non la pagano affatto la distruzione dei malvaggi è un atto di misericordia da molti si pensa che non è da Dio vendicarsi delle persone perché egli è un Dio misericordioso il fatto è che egli si vendica degli empi proprio perché è misericordioso e egli è misericordioso con loro perché li toglie di mezzo e dimostra considerazione per tutti gli altri che osservano i suoi comandamenti fu proprio per questa ragione che egli distrusse Sodoma e Gomorra purificò la Palestina quando Israele fu entrata in quella terra e distrusse tante città nefite al tempo della sua crucifissione fu l'umile e mansueto Nazareno che fece tutte queste cose perché nella misericordia e giustizia egli dovette purificare la terra per il bene dei peccatori e anche dei giusti che rimasero la seconda venuta sarà accompagnata dalle guerre le battaglie di Armageddon Gog e Magog prima della venuta di Cristo ci sarà una grande guerra da allora chiamata Armageddon come si legge nel capitolo 38 e 39 di Ezechiele un'altra guerra di Gog e Magog avverrà dopo il millennio il tempo della guerra finale non è rivelato durante gli ultimi due anni nella classe del sacerdozio alle scuole domenicale e nelle conversazioni private la seguente domanda è stata fatta e discussa con grande frequenza questa grande guerra la seconda guerra mondiale che ha gettato una brutta macchia su una vasta parte del mondo e che minaccia di coinvolgere tutto il resto dell'umanità è la grande ultima guerra che deve procedere la seconda venuta del Signore come ha predetto dei profeti a questo interrogativo si può rispondere dicendo che noi speriamo sinceramente che sia così ma il Signore ha chiaramente informato i Suoi discepoli che neppure gli angeli del cielo conoscono il giorno e l'ora in cui Egli farà la sua apparizione ma soltanto il Padre perciò a meno che il Signore non ritenga opportuno darci questa informazione non sappiamo quando e dove terminerà questo grande conflitto speriamo e preghiamo che esso possa essere l'ultimo primo prima che la pace e la giustizia permanenti siano mandate dal cielo e prima che Cristo venga sulla terra a occupare il suo legittimo posto come re del re la guerra finale annienterà e completamente tutte le nazioni in merito alle guerre seconda guerra mondiale che ora infuriano sulla terra io sono di sicuro che i profeti ne hanno parlato e il Signore disse a Joseph Smith che la guerra tra gli stati a cominciare dalla ribellione alla Carolina del sud era il principio della fine a quel tempo la terra fu privata della pace e fu predetto che a cominciare da quello stato la guerra alla fine avrebbe interessato tutte le nazioni generando dolore morte lutto carestia piaghe terremoti terribili lampi e così di seguito sì che gli abitanti della terra dovranno risentire l'ira l'igniniazione e la mano castigatrice dell'ionipotente fino a che la distruzione decretata agnienti completamente tutte le nazioni sembra che ora questo sia in via di adempimento l'assedio l'assedio di Gerusalemme metterà fine all'ultima guerra Ezechiele nei capitoli 38 e 39 ci ha descritto nei particolari la grande battaglia che precederà la venuta del figlio dell'uomo per regnare sulla terra anche Gioele e Daniele predissero questi grandi eventi che possono essere ora in via di compimento una cosa che questi profeti ci fanno chiaramente capire è che il grande conflitto finale prima dell'avvento di Cristo terminerà con l'assedio di Gerusalemme così dissero Ezechiele e Daniele e il Signore dicerò a Gioele poiché ecco in quei giorni in quel tempo quando ricondurrò dalla cattività quei di Giuda e di Gerusalemme cioè il ritorno dalla prigionia io radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat e verò qui in giudizio con esse a proposito del mio popolo ed Israele mia realità che essi hanno disperso fra le nazioni e del paese che hanno spartito fra loro Gioele predisse che a quel tempo il Signore giudicherà i pagani mettete la falce poiché la messe è matura venite calcate poiché lo strettoio è pieno i tini traboccano poiché grande e la malvagità moltitudini moltitudini nella valle del giudizio poiché il Signore dell'Eterno è vicino nella valle del giudizio così si capisce che quando gli eserciti si raduneranno in Palestina sarà il momento in cui il Signore verrà in giudizio e prenderà l'importante decisione che disorienterà i nemici del suo popolo il quale si stabilirà per sempre nella sua antica terra Cristo verrà nel mezzo della battaglia finale Zaccaria è un altro profeta che ha parlato chiaramente di questi grandi eventi secondo le sue predizioni le nazioni si riuniranno per assediare Gerusalemme una parte della città cadrà con conseguenze spaventose per i suoi abitanti quando verrà un grande terremoto il monte degli olivi si spezzerà in due e il popolo perseguitato fuggirà in questa valle per trovare scampo in quel particolare momento verrà il liberatore il salvatore il quale farà vedere loro le mani e i piedi essi lo guarderanno e gli chiederanno dove si è procurato le ferite ed egli risponderà che gli sono state fatte nella casa dei suoi amici egli è Gesù Cristo il loro redentore allora essi cadranno a terra e piangeranno divisi per famiglie perché come i loro antenati hanno perseguitato il loro re a quel tempo si avrà la redenzione dei giudei Gesù sarà allora riedificata e si adempiranno le promesse secondo cui essa diverrà una città santa il castigo di coloro che avranno stretto d'assedio quel paese sarà la loro distruzione i profeti hanno descritto queste cose con grande di ovizia di particolari e con tutti i loro orrori tali avvenimenti sono confermati nelle rivelazioni fatte al profeta Joseph Smith come si legge in dottrina alleanza particolarmente nelle sezioni 29 45 e 113 gli anziani devono avvertire la gente delle guerre finali si potrebbe dire molto di più quantitativamente intorno a questi conflitti ma quello che è scritto basterà a ogni modo il quadro è alquanto fosco ma non è forse dover degli anziani di Israele parlare di queste cose con voce ammonitrice chiuderemo noi gli occhi e le orecchie semplicemente perché alcune cose sono sgradite all'uito e alla vista ci rifiuteremo di alzare una voce di ammonimento ora che il pericolo è vicino ora che le difficoltà le abbiamo a un passo da noi e la distruzione è alla porta se conosciamo la verità una tale condotta sarebbe da codardi non si può gridare tutto bene quando il pericolo si cela e a ogni angolo non dobbiamo cullare le persone perché si addormentino in una falsa sicurezza il presidente Woodruff disse che nessuno che sia ispirato dallo spirito e dal potere di Dio può chiudere le orecchie gli occhi o le labbra di fronte a queste cose la pace tolta dalla terra niente più pace finché non verrà Cristo la pace è stata tolta dalla terra e non vi sarà più ritorno finché Cristo non verrà a riportarvela egli ha promesso che quando verrà quel giorno manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti i scandali e tutti gli operatori di iniquità ma quando questo verrà i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro un anno dopo l'organizzazione della chiesa la pace non poteva essere tolta dalla terra in giustizia ma il Signore disse che il giorno sarebbe venuto rapidamente quel giorno è venuto la pace si è allontanata dal mondo il demonio ha il potere sul suo stesso dominio questo risulta chiaro dalle azioni dei uomini dall'angoscia delle nazioni dalle difficoltà che vediamo in tutti i paesi incluso il nostro che è stato consacrato alla libertà non c'è pace il cuore degli uomini viene meno la cupidigia occupa il posto più rilevante nel cuore degli uomini il male è evidente ovunque e la gente si unisce per scopi egoistici propri a causa di ciò ieri io sono stato felice di sentire la voce di ammonimento del nostro diretto presidente dei suoi consiglieri e di altri fratelli che hanno parlato perché io ritengo che questo dovrebbe essere un giorno di ammonimento non soltanto per i santi degli ultimi giorni ma per tutto il mondo verso il quale è dovere dei santi levare una voce di ammonimento niente pace mondiale a causa della malvagità non dobbiamo preoccuparci del giorno e della stagione in cui Cristo verrà ma dobbiamo vigilare pregare ed essere pronti Paolo dichiara per profezia che il giorno in cui avremo queste calamità la gente dirà pace e sicurezza in altre parole essa cercherà la sicurezza e la pace e proprio allora sarà colta dalla rovina cosa accadde oggi alle nazioni esse hanno paura vero? ogni nazione lotta e contrasta con le altre nazioni cercando di stipulare accordi sia politici che economici stabilendo al tempo stesso conferenze e convenzioni per la pace e sezioni mondiali e leghe fra i paesi e quant'altro può essere utile alla pace su questa terra tutte cose però che non possono avere effetto perché sono avulse dai principi fondamentali sui quali si basa la pace finché essi avranno nel cuore l'egoismo e l'acquidigia il desiderio del potere della ricchezza e di tante altre cose che sono di questo mondo dimenticando tutto ciò che è del regno di Dio non ci sarà pace né ci sarà alcuna contentezza ci saranno invece litigi e contese lotte e guerre e in mezzo a tutte le loro fatiche ci saranno difficoltà che essi potrebbero evitare con grande facilità se si pentiranno se avessero cuori spezzati e spiriti contriti se amassero il loro prossimo ma non vogliono farlo non è il colmo dell'assurdo pensare che le nazioni che si definiscono cristiane che presumibilmente adornano lo stesso Dio siano pronte a scannarsi reciprocamente in una rivelazione fatta alla Chiesa il Signore ha detto se non siete uniti non siete miei e parlando i suoi discepoli quando era sulla terra egli disse perché mi chiamate Signore Signore e non fate quel che vi dico la paura è la molla per l'attuale ricerca della pace le nazioni della terra oggi hanno un gran bisogno di pace ma perché è forse perché nel loro cuore c'è amore per Dio non è per paura paura dei loro simili l'impietà e il desiderio di possedere lo spirito di Cupidigia e l'istinto di approfittarsi degli altri hanno generato uno stato di irrequetezza queste cose unite alla malvagità che alberga nel cuore della gente hanno generato una condizione di difficoltà e di dolore nelle nazioni le quali temono e tremono non perché una nazione crede o pensa che il Signore benedica altri popoli più di essa ma perché le nazioni sanno quello che c'è nello stesso cuore ed esse temono che la stessa cosa sia nel cuore delle altre nazioni e questo esse sono giustificate perché lo spirito di invidia e di lotta si trova ovunque nel mondo si è perduta la pace perché si è respinto il Vangelo oggi vediamo che il mondo è a pezzi la malvagità predomina nel cuore degli uomini l'angoscia per le nazioni e lo spargimento di sangue è tale quale il mondo non ha mai veduto prima permettete la mia franchezza ma tutto questo si sarebbe potuto evitare se gli abitanti del mondo avessero ascoltato la voce degli anziani di Israele che sono mandati a loro con questo messaggio di salvezza che essi si sono rifiutati di accettare la futilità delle preghiere sincere per la pace inoltre noi andiamo in cerca della pace siamo invitati a pregare per la pace preghiamo per la pace io non ho mai avuto molta fiducia nella proclamazione o nella richiesta fatta al popolo di questo paese di pregare per la pace per il semplice fatto che non era sincera non si può pregare il Signore dicendo ascolta la nostra causa dacci la vittoria fai quello che noi vogliamo tu faccia ma non chiedere a noi di fare quello che tu vuoi che noi facciamo da molti di coloro che hanno preso la parola in questa conferenza abbiamo sentito dire che la malvagità predomina in tutto il mondo che essa regna fra i giovani che sono stati chiamati alle armi in questo paese Stati Uniti d'America e fra le persone che non fanno parte delle forze armate noi tutti sappiamo che queste cose sono vere l'immoralità di Laga che l'ubriachezza e il nocivo uso del tabacco indeboliscono le forze di coloro che vanno a combattere e che questi mali affliggono anche coloro che delle forze armate non fanno parte il mondo è pieno di malvagità che ne sarà del futuro i guai sulla terra continueranno ci saranno dolori calamità e incertezza fra i nazioni non dobbiamo aspettarci la pace nell'immediato futuro perché la pace non verrà tuttavia possiamo guardare al domani come allegrezza non dobbiamo scoraggiarci ma nello spirito della fede e della speranza e nel timore del Signore dovremmo guardare al futuro con sentimenti di gioia di umiltà e di adorazione con il desiderio nel cuore se possibile più forte che mai di servire il Signore e di osservare i Suoi comandamenti perché il giorno della Sua venuta si avvicina svegliate e siate pronti il Signore verrà come un ladro nella notte vegliate dunque perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire ma sappiate questo che se il padron di casa sapesse a qual vigile il ladro deve venire veglierebbe e non lascerebbe forza la sua casa perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà così mi rivolgo a voi miei fratelli e sorelle a tutti quelli che odono la mia voce e vi dico che non viviamo nella dispensazione della pienezza dei tempi nell'anno 1836 uno degli antichi profeti apparve a Joseph Smith e a Oliver Caudry e conferì loro certe chiavi che era stato promesso che sarebbero state rivelate prima della seconda venuta di Cristo dopo che quell'antico profeta ebbe investito quei giovani d'autorità disse loro e da questo voi potrete sapere che il giorno grande e terribile del Signore è prossimo anzi alla porta questo accade nel 1836 cioè 120 anni fa noi siamo molto più vicini all'apertura di quella porta e alla venuta di Cristo io so che ci sono molti alcuni anche fra i santi degli ultimi giorni che dicono esattamente quello che il Signore disse avrebbe detto il Cristo rinvia la sua venuta un uomo ha detto è impossibile che Gesù Cristo venga entro un periodo di tre o quattrocento anni ma io vi dico vegliate io non so quando Ehi verrà nessuno lo sa e anche gli angeli del cielo ne sono all'oscuro io so però questo che segni che sono stati predetti sono qui la terra è piena di calamità di guai il cuore degli uomini viene meno noi vediamo i segni come vediamo l'albero di Fico che mette le foglie e sapendo che quel tempo è vicino e dopo che io voi e tutti i uomini della terra prestiamo attenzione alle parole di Cristo e dei suoi apostoli e veiamo perché noi non conosciamo né il giorno né l'ora ma io vi dico questo e il verrà come un ladro nella notte quando molti di noi non saranno pronti il vangelo restaurato preparato agli uomini per la seconda venuta il signore ha restaurato la pienezza del vangelo per la salvezza dell'umanità purché gli uomini ascoltino la sua voce e quella dei suoi servi e la seguono ubbidienti la sua chiesa è stata nuovamente istituita nel mondo e il maestro ha mandato i suoi servi in tutte le parti della terra per proclamare il giorno di pentimento e di salvezza questi servi hanno gridato come il grande profeta e percursore di nostro signore in occasione della sua prima venuta rabbedetevi poiché il regno dei cieli è vicino come era stato ha comandato loro i servi del signore sono andati nel mondo investiti di potere e d'autorità e la voce di ammonimento andrà a ogni popolo per bocca dei miei discepoli che ho scelto in questi ultimi giorni e andranno innanzi niente di uno li arresterà poiché io il signore li ho comandati pertanto temete voi popoli poiché quanto io ho decretato in essi si compierà così hanno camminato fra la gente proclamando il messaggio di salvezza e laddove non sono potuti andare hanno mandato la parola tal che praticamente essa è stata proclamata in tutte le parti della terra in questi tempi di pericolo è necessario insegnare ai bambini nella storia della chiesa non c'è mai stato un periodo di tempo come quello presente in cui siamo stati circondati da così tanti mali da così tante tentazioni da allettare e sedurre i figli di Sion allontanando dai sentieri della giustizia e dopo che ciascun di noi stia allerta e tenga continuamente presente il fatto che noi apparteniamo alla chiesa che il signore ci ha dato la pienezza del vangelo e con tutte le sue promesse e che il raccogliere o no le benedizioni dipende dalla nostra fedeltà dalla nostra obbedienza e integrità verso questi principi di verità e verso la chiesa in un'epoca precedente il signore dovette rimproverare alcuni anziani dirigenti della chiesa perché le condizioni della loro famiglia non erano come avrebbero dovuto essere mi chiedo se la più grande parte di noi non riceverebbe un analogo rimprovero se il signore dovesse parlare nuovamente sullo stesso argomento nella sezione 93 di dottrina alleanza il signore dice ma io vi ho comandato di allevare i vostri figli nella luce e nella verità in tutte queste rivelazioni noi troviamo quest'ordine e cioè che i genitori devono allevare i loro figli nella luce e nella verità in un'altra sezione e precisamente nella sezione 68 il signore dice che se i genitori non insegnano ai loro figli a capire il principio del battesimo a pregare e avere fede nei principi del Vangelo quando essi avranno raggiunto l'età della responsabilità otto anni egli riterrà responsabili di ciò i genitori e se i loro figli per mancanza di addestramento dovessero crescere nell'ignoranza della verità e negare la fede la responsabilità sarà sempre dei genitori quindi vedete bene che tutti noi abbiamo una responsabilità molto seria di chiudere